La prevenzione è stato il tema del convegno, l'emozione di vivere organizzato dall'associazione Fare Bene Franco Palumbo, svoltosi ieri sera presso l'azienda agricola San Salvatore a Giungano. L'iniziativa promossa dall'associazione, nata in memoria del compianto sindaco di Giungano e di Capaccio Pestum, ha visto il contributo importante di medici e amministratori del territorio. Il Dipartimento di Prevenzione ha un ruolo centrale nella gestione della sanità pubblica, anche perché in esso confluiscono dei servizi che sono rivolti soprattutto alla prevenzione primaria, come controllando gli alimenti, controllando gli inquinanti quando diventano nocivi per la persona, controllando le produzioni di tutte le aziende, controllando la salute nei luoghi di lavoro, controllando in effetti la enorme mole di normativa che è finalizzata proprio al mantenimento dello stato di salute. Il CyberKnife riesce a seguire, a visualizzare il movimento degli organi e del tumore e a seguire il tumore in tempo reale, quindi irradiando il tumore nelle varie posizioni che assume nel corso dei movimenti respiratori. E questo è stato un'enorme innovazione perché ha consentito di trattare un numero elevatissimo di pazienti con lesioni polmonari, evitando la toracotomia, che è un intervento eccezionalmente invasivo, estremamente doloroso. Ha rivoluzionato il trattamento delle metastasi in tutte le parti dell'organismo e ha innovato enormemente il trattamento dei tumori al cervello. In Italia dove si possono eseguire questi trattamenti? In Italia ci sono vari CyberKnife. Il primo CyberKnife fu installato a Vicenza, poi abbiamo vari CyberKnife a Milano. Io lavoro presso il CyberKnife del Centro Diagnostico Italiano e noi siamo il centro che esegue il maggior numero di trattamenti al mondo. Eseguiamo circa 1200 trattamenti all'anno e siamo in questo momento il centro con la maggiore esperienza mondiale. Abbiamo superato i 15.000 casi trattati. Noi ormai da tanti anni, il 2020 sarà la quindicesima edizione, però abbiamo bisogno anche di tanti altri sostenitori. Non necessariamente per raccogliere del denaro, ma per avere dei prodotti e dei servizi, perché quel metodo di realizzazione della Vacanza del Sorriso è legato alla raccolta di prodotti e servizi che ci servono per assemblare, per costituire queste vacanze, questi campi ricreativi, questi soggiorni settimanali che noi poi offriamo agli ospedali pediatrici o anche matologici di tutta Italia. Sono sempre dell'avviso che non si può mai comprendere appieno una problematica quando non la si vive. Dovremmo essere più attenti, dovremmo essere più sensibili rispetto a questa cosa, per cui io veramente invito tutti coloro che ne hanno la possibilità a sovvenzionare la ricerca, a accendere appunto un faro su quella che è la prevenzione, perché ritengo che sia l'unica via d'uscita in ordine appunto alla cura di queste patologie. Molto bello che dal dolore la famiglia Sabrina, l'associazione Fare Bene riesce a riflettere un giorno di solidarietà, di sostegno alla ricerca, un'altra associazione che porta in vacanza bambini che hanno problemi di malattie gravi e che li porta nel Cilento ad avere giornate di sollievo, di serenità, di spensieratezza. Quindi una bella serata nel ricordo di memoria ma anche un dolore che diventa amore per gli altri. Credo che Franco ci dà la forza per continuare questo meraviglioso percorso intrapreso da lui soprattutto come uomo delle istituzioni, l'uomo a servizio della gente, la gente soprattutto la più debole. Franco diciamo che ha dato tanto a questo territorio, questo meraviglioso territorio e credo che lui della SU ci guide per continuare. Io sono onorato di essere l'uomo del prosieguo di questo meraviglioso uomo al servizio della gente.